Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra Non passerà un solo iota o un solo trattino della legge Senza che tutto sia avvenuto Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti E insegnerà agli altri a fare altrettanto Sarà considerato minimo nel Regno dei Cieli Chi invece li osserverà e li insegnerà Sarà considerato grande nel Regno dei Cieli Gesù propone a chi lo segue la perfezione dell'amore Un amore la cui unica misura è di non avere misura Di andare oltre ogni calcolo L'amore al prossimo è un atteggiamento talmente fondamentale Che Gesù arriva a affermare che il nostro rapporto con Dio Non può essere sincero se non vogliamo fare pace con il prossimo Alla luce di questo insegnamento Ogni precetto rivela il suo pieno significato come esigenza d'amore E tutti si ricongiungono nel più grande comandamento Ama Dio con tutto il cuore E ama al prossimo come te stesso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti